A Proloco di Terra Nuova organizza, con il patrocinio del comune di Terra Nuova Bracciolini, per martedì 24 marzo, una visita al Vinitali di Verona e al Sol, salone dell'olio d'oliva extravergine di qualità. Il Vinitali è uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il settore del vino, delle produzioni locali e del turismo enogastronomico. È una manifestazione, diciamo, un'organizzazione che abbiamo già da qualche anno in collaborazione con l'amministrazione comunale e organizziamo questa gita al Vinitali anche perché diamo un servizio a costi ridotti, perché, diciamo, il costo del biglietto è della metà di quello che sta prendendolo lassù e lo si fa tramite, diciamo, l'associazione dei vittori provinciali e quindi il costo del biglietto è ridotto. Il costo complessivo è di 55 euro, compreso del biglietto e la partenza verrà dall'autostazione alle 6 la mattina del 24 di marzo dall'autostazione di Terra Nuova Bracciolini e quindi coloro che sono interessati a questa manifestazione e sono amanti del buon vino, diciamo, sono invitati a prenotarsi presso l'ufficio attività produttive del comune che prenderà le prenotazioni. La Proloco di Terra Nuova ha promosso questa iniziativa per concedere a coloro che amano il buon vino e anche a tutti quelli che operano professionalmente di partecipare al Salone Internazionale del Vino a Verona, un'eccellenza tutta italiana dal 1967.